Ministri diplomatici e filantropi provenienti da 20 paesi hanno partecipato al Global Food Security Summit a Londra. L'evento è stato promosso da Regno Unito, Somalia ed Emirati Arabi, insieme alla Bill & Melinda Gates Foundation. Il primo ministro britannico Rishi Sunak punta molto sulla tecnologia. Uno degli obiettivi è trasformare i sistemi agroalimentari per affrontare i cambiamenti climatici. Il premier britannico Sunak ha affermato che oggi nel 2023, in un mondo di abbondanza, nessuno dovrebbe più morire per mancanza di cibo. Grazie.